Sono passati molti anni, pieni di guerra e di quello che si usa chiamare la storia. Spinto qua e là all'avventura non ho potuto finora mantenere la promessa fatta lasciandoli ai miei contadini di tornare fra loro, e non so davvero se e quando potrò mai mantenerla, ma chiuso in una stanza e in un mondo chiuso mi è grato riandare con la memoria a quell'altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato, eternamente paziente. A quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà su un suolo arido, nella presenza della morte. Noi non siamo cristiani, essi dicono, Cristo si è fermato a Eboli. Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Eucania. Cristo non è mai arrivato qui, ne è arrivato il tempo, nell'anima individuale, nella speranza, nei legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Cristo non è arrivato. Come non erano arrivati i Romani, che presidiavano le grandi strade e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i Greci, che fiorivano sul mare di Metaponto, i di Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato quaggiù il suo senso del tempo che si muove, nella sua teocrazia statale, nella sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore o un nemico, o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina. Oggi, come 3.000 anni prima di Cristo, nessun messaggio umano, divino, si è rivolto a questa povertà rifrattaria. Parliamo un diverso linguaggio. La Basilicata esiste. Benvenuti a Tagliarlo! Comunque grazie Carlo, è anche merito tuoso la Basilicata, ora ha un inno, finalmente ha alzato la testa, ha un inno che si è scritto da sola, perché la Basilicata senza falsa modestia è una regione che ragiona, una regione che compone parole struggenti, il lucano medio, perché la Basilicata parla la lingua del suo popolo, ma al tempo stesso vuole essere compresa da tutti, allora ha chiesto a Rocco Papale e Famiglia di tradurre le parole del suo inno, e noi lo faremo. Basilicata dice, se Cristo si è fermato a Eboli di chi è la colpa? Certo non è nostra, noi gli volevamo bene, avevamo preparato una festa grandissima con d'orgi tipici, vino, sembrava Capodanno, ma Cristo non è venuto, non ci ha neanche avvisato, ci siamo rimasti male, abbiamo dovuto buttare tutta la roba, ma anche senza protezione, ci siamo dati da fare e con molta insistenza ne siamo venuti a capo. Basilicata dice, se Cristo si è fermato a Eboli di chi è la colpa di chi è, certo non è da nostra, noi gli volevamo bene, avevamo preparato una festa grandissima con a Taboli di chi è la colpa di chi è la colpa di chi è stata e con una cosa anche stacked. Ma ovvero senza protezione che va bene, invece ci см Beni Ramos закlegen reass duoku, ci siamo rimasti su gente, vuoi benvenuti a Bayi di chi è la colpa di chi è la nostra band, può usare so servire e le montagne sta condentere sulla twelve e la litra. Il Papa si è interessato, ci ha telefonato, ha detto state tranquilli, ci avrebbe aiutato e noi per stare tranquilli, per aiutarci a resistere, senza dirgli niente, ci siamo fatti buddhisti. Tu che ne sai, la vista mai, la selecati insomma mai. Tu che ne sai, la vista mai, la selecati insomma mai.